Presso il Polifunzionale di Fontana un incontro in cui si parla della scuola proprio per informare soprattutto i genitori su quello che è il funzionamento della scuola. L'incontro è organizzato dal Comune di Serrara Fontana. Allora, di cosa si tratta e chi sarà il relatore? Il relatore sarà la docente preside Maria Luisa Sergi, che è il nostro referente per quanto riguarda il settore dell'istruzione per il Comune di Serrara Fontana. Abbiamo voluto fortemente questo incontro come amministrazione proprio perché pensiamo che anche i genitori debbano essere formati e debbano essere preparati anche sul come affrontare le problematiche relative alla scuola. Perché è importante capire che il Comune non può intervenire in tutti i settori della vita scolastica e la scuola altrettanto. Quindi è importante definire di chi sono le competenze nel risolvere determinate problematiche. Quindi questo è un primo incontro. Poi in futuro speriamo anche di averne degli altri proprio perché pensiamo come Comune abbiamo sempre creduto nella formazione, in una formazione che giorno dopo giorno deve portare sicuramente all'accrescimento culturale e sociale di tutta la nostra comunità. Allora Maria Luisa Sergi, leggi e funzionamento del sistema scolastico? Sì, le principali leggi che regolano la vita della scuola a partire dal 1994 e tranne l'ultima riforma perché è ancora in itinere e ancora non è stata definita completamente. Però già il testo unico, il decreto interministeriale 44, la legge sull'autonomia sono fondamentali per far capire ai genitori com'è il funzionamento della scuola perché la scuola è un settore molto particolare per cui o ci sei dentro oppure è difficile poi capire come è il suo andamento, quali sono le leggi che la regolano eccetera. E quindi il sindaco ha voluto questo incontro con i genitori per dare loro la possibilità di orientarsi nell'ambito delle principali, almeno le principali leggi dal testo unico fino al decreto interministeriale 44, poi si vedrà.